ciao a tutti buon pomeriggio come state avete già finito di lavorare ecco come al solito mi sono dimenticata di togliere la suoneria adesso mi arrivano tutte le notifiche vediamo se riesco a farlo così ok a posto allora c'è qualcuno a posta io mi ribecco intanto come il solito sul pc poi mi prendo i miei appunti perché mi sono presa qualche appunto sui libri che vi consiglio perché questa volta ve li consiglio io ciao a te che ti sei collegato allora avete già finito di lavorare di fare i compiti non lo so cosa cosa state facendo ditemi un po ciao xatak ciao re scommesso che eri tu benvenuto mitico xatak senti ma le lampadine io non mi ricordo le lampadine le hai finite poi mandamele su ite poi mandamele su instagram che sono curiosa di vederle ciao luciana lo so ho visto infatti volevo proprio parlare di te mi ero presa l'appunto che ti ho appena commentato sul su instagram che ho visto che fa il sapone brava cavoli io invidio chi ha il coraggio di fare il sapone dico il coraggio di usare la soda caustica mi viene troppo a paura perché poi io sono distratta cioè più che altro io faccio le cose troppo di fretta di solito e quindi ho paura poi di fare dei danni però mi sarebbe anche se poi il sapone solido io non lo uso però è un altro dei miei sogni nel cassetto cioè fare il sapone comunque brava eh brava l'ho visto brava complimenti allora xatak ancora no mi manca poco la eli ciao leti e si ciao eli scusate no perché intanto mentre leggo un messaggio e rispondo un messaggio sono già quello sotto quindi ogni tanto mescolo tutto ciao tocca come stai stai meglio spero che ti è passata l'influenza allora ragazzi dai allora intanto ecco ribadisco i miei complimenti alla luciana primo che su instagram ho visto la foto lei fa il sapone è bravissima ma poi ci sono tanti di voi che veramente su instagram mi stanno colpendo di brutto perché cioè io vedo magari perché se voi mi seguite che io so che siete voi poi io vi riseguo e tante di voi fanno un sacco di lavoretti belli tipo la jovi la giovanna 5 scoperto che anche lei fa delle cose almeno penso che le faccia lei perché mette le foto o lei quindi penso che le faccia lei quindi mi fa piacere vedere che anche voi siete belle attive o attivi e fate lavoretti allora ciao daniela sanalitro sì tutto bene sono stra stanchissima perché questa settimana ho avuto un po' di problemi a dormire di notte cioè del tipo che mi sono svegliata a tre o quattro notti alle due e mezza tre poi non riuscivo più a dormire quindi sono un po' allucinata se dico cose strane non preoccupatevi è tutto normale ciao jovi ho appena parlato di te ho detto che fai delle cose bellissime ho visto le foto su instagram brava allora tocca se stai meglio bene ti ho passato già da tanto bene bene sono contenta ciao dorina ursu benvenuta anche a te allora siamo qui riuniti oggi perché vi voglio parlare di qualche libro che vi consiglio io e ho preso qualche appunto perché poi come dicevo l'altro giorno io lì per lì poi se devo dire le cose così che non ci ho pensato prima poi vado in tilt e mi blocco e non riesco più a dire niente come quando uno fa le interrogazioni a scuola allora mi sono presa un po' di appunti di libri che mi sono piaciuti tantissimo nell'ultimo periodo e poi ve ne parlo lunedì vi svelo il mistero che aleggia sul mio canale dalla diretta di mercoledì cioè lunedì per lunedì ho preparato il tutorial nel quale utilizzo la come si dice la zanzariera è una delle due cornici che ho preso l'altro giorno che ho preso mercoledì e però so che le più attente di voi già possono avere intuito le più attente che vedono anche le foto sulla mia community oppure le più attente che mi seguono anche su instagram dove metto giorno per giorno le foto di quello che sto combinando no per i tutorial e quindi so che già alcune di voi possono esserci arrivate secondo me allora giovanna sì sì li faccio io francamente prendo spunto da te oh ma ti ringrazio ma comunque sei bravissima hai fatto delle cose bellissime ma tu non sei da meno bravissima ok grazie grazie allora dai cominciamo a parlarvi di libri però ho preso appunti sul pc quindi scusatemi se non vi guardo direttamente ma devo guardare perché se no non me li ricordo allora duri nella prima volta che guardo il tuo canale che argomenti tratti in genere allora guarda durina io sul mio canale di solito faccio video tutorial di fai da te riciclo creativo poi comunque una volta che è finita la diretta se ti va di dargli un occhio magari scopri che ti piace nelle dirette dipende parlo un po' di quello che capita di quello che sto combinando ho fatto anche dei tutorial in diretta ma non è questo non è il caso di oggi poi fammi sapere dai se ti piace il mio canale mi farebbe piacere anche se ti iscrivi allora maya pin ciao se non sbaglio tu è la prima volta che scrivi con noi in chat nelle mie dirette benvenuta grazie allora 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 quindi ribadisco anche a voi che vi siete collegate adesso se mi volete seguire su instagram io poi se so che siete voi vi riseguo almeno posso vedere anch'io le cose belle che fate allora parliamo di libri l'altro giorno Anna Rita anche tu sei arrivata tutto bene sei sempre incuriosire allora un po' di suspense allora oggi parliamo di libri l'altro giorno vi ho fatto vedere un po' di libri che avevo che ero appena andata a ritirare in biblioteca la Vilma Radice mi aveva consigliato un libro che ho già iniziato a leggere ancora sono ancora ferma a pagina 24 ieri non ce l'ho fatta ero cotta e però vi voglio dire io qualche libro di quelli che mi sono piaciuti di più in assoluto nell'ultimo periodo sapendo che io prediligo il genere thriller perché gli altri quelli non so romantici e cose così non fanno per me perché sono troppo non mi tengono abbastanza col fiato sospeso no diciamo che mi annoiano un po' ovviamente senza offesa per nessuno questo è il mio parere allora parto con un libro che è di un autore che io non avevo mai letto che è John Esbo poi non so tanti di questi sono stranieri non so se le pronuncio il nome corretto comunque alla fine della diretta vi farò trovare nella descrizione l'elenco di tutti i libri che vi ho citato allora questo è Macbeth che è un libro che è uscito ultimamente negli ultimi mesi e devo dire che quando l'ho iniziato mi è piaciuto tantissimo perché mi piaceva proprio il personaggio poi niente c'è stata una discesa nella storia questa storia ha preso delle pieghe che non mi piacevano e mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca salvo poi arrivare alla fine e scoprire che in pratica questo libro fa parte di una collana di storie di Shakespeare che sono state riscritte in chiave contemporanea da diversi autori poi anche lì mi devo ricordare di scrivervi nella descrizione questo filone come si chiama perché ci sono poi anche tutte le varie informazioni in internet da poter vedere il sito se non sbaglio è in inglese però se usate il traduttore di Google poi è facile anche da leggere e quindi niente alla fine quando ho scoperto questa cosa qua mi si è accesa un po' la lampadina e mi ha lasciato poi piacevolmente colpita perché sapere poi dopo che era una rilettura del Macbeth e di Shakespeare mi ha piacevolmente colpito un altro libro che mi è piaciuto tantissimo e ho scoperto per caso si intitola I libri di Luca ed è di un autore del nord Europa si chiama Mikkel Birkegaard ed è una storia bellissima poi io non entro nei particolari perché non voglio togliervi il gusto di leggere però forse almeno la trama dovevo leggerela e quindi mi dovevo preparare meglio vabbè fatemi sapere voi poi se volete anche le trame poi per la prossima volta mi preparo bene bene anche le trame in pratica questo libro in ogni caso parla di questo Luca che ha una biblioteca e alla fine insomma all'inizio del libro questo signore muore viene tirato in mezzo anche il figlio che non era più in contatto col padre insomma morale queste persone vabbè insomma c'è un bel mistero un bel intrigo ma non ve lo voglio dire la prossima volta mi devo preparare meglio poi un altro autore che a me piace tantissimo è Joel Dicker che è quello scrittore che ha fatto la verità sul caso Enrique Berg che probabilmente conoscete perché è abbastanza famoso come libro ha scritto anche il libro dei Baltimore e la scomparsa di Stephanie Myler allora questo è un autore che piace e non piace a me piace tantissimo sia per come scrive che per come sviluppa le storie diciamo che è molto adatto a quelle persone che amano i libri con molti flashback perché è un po' diciamo che è un po' come quelle serie tv in cui per farti capire la storia continuano a fare dei flashback a quello che è successo prima e quindi a volte si rischia magari un po' di perdersi però a me piace tantissimo non so a voi se vi piace oppure no ditemi voi nei commenti poi anche adesso in chat quali sono i vostri autori preferiti un altro libro che avevo scoperto per caso l'ho scoperto perché per un certo periodo sono stata abbonata avevo fatto il Kindle Kindle come si dice Amazon insomma quello lì Unlimited uno dei libri gratuiti che c'era era La ragazza numero 9 di Timmy Hog anche questo non so se si pronuncia così è sempre una sorta di thriller poliziesco anche in questo caso mi sono piaciuti molto i personaggi è scritto in modo semplice i personaggi mi fanno simpatia poi io mi affeziono proprio proprio tanto i personaggi e quindi poi mi piace leggere di solito quei libri che sono in serie un altro autore che mi piace molto che si chiama Lars Kepler ma in realtà sono marito e moglie che scrivono e sono quelli che hanno scritto l'ipnotista probabilmente conoscete questo libro perché a suo tempo questo è un libro del 2009 ed era molto famoso e l'ispettore diciamo il filo conduttore è l'ispettore John Alinna e quindi questo ispettore tutte le volte ritorna poi ci sono anche varie vicissitudini che passano nella sua vita e comunque è un autore che mi piace tantissimo ho scoperto oggi preparandomi per questa diretta che è uscito l'ultimo libro di Lars Kepler quest'anno e si intitola Lazarus quindi io ho già provveduto a prenotarlo in biblioteca sono la ventiduesima in coda nella prenotazione vabbè aspetterò con pazienza c'è poi negli ultimi anni però stiamo parlando di una decina di anni fa ho amato tantissimo la trilogia di Stieg Larsson quella composta da uomini che odiano le donne la ragazza che giocava con il fuoco e la regina dei castelli di carta sono tre libri che mi sono piaciuti tantissimo nonostante fossero alti tutti e tre così magari li avete già letti anche voi comunque me li sono letti in un soffio perché sono proprio proprio tanto avvincenti quindi se non l'avete ancora letto e amate il genere questo genere di libri vi consiglio proprio di leggerlo magari avete visto anche il film se non sbaglio di film ne avevano fatti due tutti e due con attori diversi il secondo era quello con l'attore che ha fatto anche 007 se non sbaglio adesso non mi viene il nome il secondo corrisponde un po' di più alla trama del libro mi era piaciuto un po' di più tolto il fatto che comunque di solito i libri i film non sono mai belli come i libri e questo vabbè si sa adesso vi vengo a leggere in chat poi continuo con il mio elenco allora c'è il mio elenco laudito ciao benvenuta ciao ida sto parlando di libri allora robichia ciao hai letto quelli di faletti si 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 li ho letti li ho letti mi sono anche piaciuti infatti guarda quando purtroppo è venuto a mancare faletti mi è venuto proprio il magone eh vabbè dai non mi voglio intristire no perché se no io poi mi prendo proprio le cose mi prendo lo stomaco si di libri allora robichia ah ok il punto di domanda è relativo a quello che hai scritto prima ok belli i film tutti e tre ok allora adesso ce ne sono tantissimi poi in realtà di di autori che mi piacciono ad esempio Ken Follett anche se quelli più storici come gli ultimi che ha fatto che parlano della seconda guerra mondiale diciamo che quello è un periodo quello delle guerre della seconda guerra mondiale in particolare non è un periodo storico che mi piace non mi piace per niente mi piacciono e mi appassionano tantissimo i libri ambientati nel medioevo ad esempio non lo so io probabilmente nella mia vita precedente ho avuto ho avuto una reincarnazione medievale non lo so però mi piace tantissimo quel periodo storico e ci sono anche degli auto ah scusatemi mi stavo perdendo quindi dicevo i classici quelli più famosi come ad esempio Ken Follett mi piacciono abbastanza un'autrice che poi nel corso degli anni invece mi ha deluso e non ho più letto è stata Patricia Cornwell con il personaggio di Kay Scarpetta che magari conoscete che all'inizio mi piaceva tantissimo poi a mano a mano nel corso degli anni non lo so ho sempre ho avuto sempre di più l'impressione che non fosse lei a scrivere cioè che le trame fossero povere povere che fossero non lo so fossero libri buttati lì per buttarli lì per pubblicarli cioè non mi ha più dato quelle emozioni dei primi libri e quindi basta a un certo punto ho smesso di leggerla non so neanche sinceramente se negli ultimi anni abbia pubblicato altri libri poi come avevo già detto in una delle precedenti dirette io sto partecipando a una specie di sfida organizzata dalla biblioteca del mio paese in pratica in dieci mesi quindi da luglio di quest'anno a maggio dell'anno prossimo bisogna leggere 30 libri io ne ho già letti parecchi di questi 30 e la cosa bella di questa sfida è che in pratica ci sono delle categorie quindi non è che dici ti piacciono i thriller ti prendi 30 thriller no no ci sono categorie diverse e ogni libro che tu ti diciamo devi mandare per farti devi indicare per farti convalidare deve corrispondere a una categoria particolare una categoria era leggi un libro del tuo anno di nascita pubblicato nel tuo anno di nascita e io ho trovato Bar Sport di Stefano Benni che ragazze non mi è piaciuto per niente ma proprio zero cioè zero 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 secondo me è un tipo di non lo so a me le cose troppo demenziali non piacciono infatti io i cinepanettoni magari sto dicendo un'eresia per qualcuno non lo so però cinepanettoni mai visti film di fantozzi mai visti cioè libri demenziali quasi mai letti perché non non mi danno niente cioè non mi fanno neanche ridere sinceramente non so a voi se piacciono oppure no sempre nell'ambito della sfida della biblioteca c'era un'altra categoria era quella di allora leggere un libro il cui autore ha le stesse iniziali tu e di nome e cognome e io ho trovato Luciana Littizzetto quindi ho preso uno dei suoi libri anche quello sto un po' facendo fatica a leggerlo perché proprio come genere quello della comicità non mi piace diciamo che bene o male è simpatico perché sono secondo me cioè io ho come l'impressione che siano i monologhi che poi lei magari va a raccontare da Fabio Fazio quindi sono tutti monologhi molto brevi con le sue classiche battute e quando lo leggo mi sembra anche di è come se avessi lei davanti è come se mi sentisse lei nelle orecchie che le legge quindi vabbè alla fine ci sono tante cose che che fanno ridere adesso non so se riesco a beccarlo qua nella mia pigna ah ecco ed è questo qua la bella addormentata in quel posto e non lo so adesso vengo a leggervi in chat e ditemi voi se leggete oppure no dai allora ciao Letizia anche a me piace molto leggere un po' di leggo un po' di tutto ah ok brava meno male dai ciao Vilma benvenuta allora io in un anno ne ho letti sei in tre settimane eh guarda io ne ho letti in un mese e mezzo ne ho letti quindici c'erano in mezzo anche le vacanze estive quindi però leggo leggo parecchio allora Robi Chia ci sono dei libri che non si riescono a leggere a me è successo con la solitudine dei numeri primi mi ha depresso a metà l'ho riportato in biblioteca oddio sai che quello è uno di quelli che rientra che avevo scelto perché rientra in una delle categorie adesso vabbè non ce l'ho qua sotto mano però se mi dici così mamma mia mi viene voglia di non prenderlo neanche allora Ida infatti li ho letti durante le ferie eh sì perché lì quando io anche io quando sono in ferie ne approfitto per leggere cioè recupero tutto quello che non riesco a leggere durante durante l'anno allora dai ditemi qualcosa anche voi che libri mamma mia sono sfattissima proprio ho un sonno a retratio che è una roba stratosferica però sto preparando un sacco di cose belle dai volete no non ve la do l'anteprima del video di lunedì dai cosa dite la volete o no ma vediamo allora dai scrivetemi qualcosa ecco no ne approfitto volevo già dirlo nella diretta di mercoledì per coloro che magari guardano le dirette con il cellulare magari ci sono tante persone che non sanno che si può chattare anche guardando una diretta cioè puoi chattare anche con il cellulare quindi tenendo il cellulare in orizzontale scusate in verticale in modo che c'è il videino piccolino sopra e tutta la serie sotto tutta la serie di altre informazioni come video suggeriti eccetera nella barra nera appena sotto il video c'è scritto anche chat live una roba una roba del genere se cliccate lì potete chattare anche voi anche dal cellulare quindi lo dico come informazione perché magari tante vorrebbero farlo ma pensano che non si possa fare con il cellulare e quindi vabbè avete capito allora Giovanna 5 si anticipa Letizia no 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 15 sei una riformatrice brava eh io sono sempre con il cell eh ma Ida tu sei avanti lo so già che tu sei avanti eh che chatti sempre con me allora ragazzi non so io spero di avervi dato delle informazioni utili però mi devo fare un'autocritica perché in effetti parlare di libri così non serve avrei dovuto prepararmi anche le trame leggervi al mail perché se no vabbè vi dico un titolo vi dico l'autore però non è che vi incuriosi scopi di tanto quindi per la prossima volta giuri in giuretta mi preparo meglio e per ogni libro che vi indico vi saprò dire anche le trame non so se mi potete perdonare per questa volta dai infatti ma infatti non capivo riformatrice stavo ancora cercando di capire cosa intendessi però sembrava detto in modo positivo quindi mi andava anche bene allora ragazzi avete già visto i miei video di questa settimana? quello di ieri mi raccomando se non l'avete ancora visto guardatelo che è molto interessante vi spiego come faccio io per organizzare il mio menù settimanale facendo una tabella usando dei posti e così è un po' particolare quindi se siete anche voi sempre in difficoltà e non sapete come fare per organizzare pranzi e le cene perché se no mangiate sempre le stesse cose anche voi allora guardate il mio video poi sappiatemi dire come va Ida Mazza ve li hai visti tutti tu sei bravissima Roby due chiacchiere fanno bene bene sì ti saluto allora un abbraccio anche a te Roby Ida sì che cosa ah vabbè comunque ragazze dai allora facciamo così per la prossima volta che parlo di libri prometto che mi preparo meglio voi mi raccomando portatevi a pari con i miei video prossimo video sicuramente lunedì mattina dove svellerò l'arcano cosa ho fatto con la zanzariera e la cornice e niente passate un buon weekend vediamo io non so se mi collegherò ancora in diretta sabato o domenica forse domenica ma non ve lo garantisco però vabbè vediamo 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 e va bene dai allora adesso vi saluto noi ci vediamo alla prossima ciao